si inizia con minime a 2 3 gradi e massime che non supereranno i 7 questo vicino al mare nelle zone interne si andrà ben sotto lo zero anche di 7 8 gradi con possibili nevicate e non solo qualche fiocco potrebbe cadere anche a bassa quota e sulle coste nella giornata di domenica quella prevista più freddi in assoluto la temperatura a salerno sarà di 0 gradi nelle minime di 7 nella massima intanto massima attenzione viene richiesta soprattutto in quelle zone vallo di diano alta valle del sele aree interne per lo più dove con le gelate notturne si potrebbero verificare problemi alla circolazione non solo sono molte le località nel salernitano che vedranno scendere la colonnina del termometro anche a meno 7 8 gradi e questo neve a parte potrebbe significare tubi dell'acqua che si spaccano strade ghiacciate ed altri inconvenienti in ogni caso le temperature caleranno bruscamente in tutto il centro sud a partire da domani con i termometri che perderanno anche 15 gradi rispetto ai giorni scorsi inoltre ci sarà anche il vento che accentueranno al di più la sensazione di freddo facendo percepire temperature inferiore ai 4 6 gradi rispetto a quelli reali superiore ai 5 gradi rispetto ai giorni scorsi inoltre ci sarà anche ill besonders campato viaggio di 1.3 insomma quando si Branisi incontrata è importante mettere un conservative